JS Challenge Talks è il podcast dedicato a tutte le donne che vogliono ritrovare il proprio equilibrio partendo da se stesse, attraverso una maggiore consapevolezza del fitness femminile. Ciao a tutte ragazze, sono Jessica Stefanini, personal trainer e fitness coach, ex atleta bikini fitness, mamma ed imprenditrice. Attraverso questi podcast vi parlerò non solo di allenamento e di alimentazione, ma anche di stile di vita, equilibrio e di benessere a 360 gradi. Buon ascolto! Ciao a tutte ragazze e benvenute al secondo podcast di JS Challenge Talks. Nel primo podcast, nel nostro primo episodio, abbiamo appunto parlato della frequenza di allenamento e quante volte bisognerebbe allenarsi durante la settimana. Abbiamo analizzato diversi aspetti che riguardano questo argomento e oggi continueremo a farlo con il secondo episodio, che riguarda appunto la seconda parte di questo argomento. Parleremo infatti di quale dovrebbe essere la frequenza di allenamento, quindi quante volte allenarci durante la settimana, in base agli obiettivi che possono essere quelli di massa, costruzione muscolare o quelli per esempio di definizione e dimagrimento. Andiamo subito dalla fase di massa. La fase di massa o anche di costruzione muscolare è solitamente caratterizzata o comunque a questa fase solitamente si accompagna un'alimentazione un po' più ricca, quindi c'è di solito un maggiore entroito calorico rispetto ad una fase di definizione. Abbiamo quindi di solito durante questo periodo maggiori disponibilità energetiche e queste maggiori disponibilità energetiche fanno sì che ci sentiamo durante questo periodo anche più forti, più energici e abbiamo quindi la possibilità di migliorare sensibilmente. Ma che cosa possiamo migliorare? Possiamo migliorare non soltanto a livello estetico, attraverso comunque un miglioramento della nostra composizione corporea, ma di migliorare anche le variabili dell'allenamento stesso. Questo significa che durante il periodo di massa o di costruzione siamo sicuramente, grazie anche a un introito calorico maggiore, più performanti ed essere più performanti ci permette appunto di lavorare anche meglio su altri aspetti. Vediamo insieme quali sono queste variabili. Allora, partiamo innanzitutto dal volume. Il volume è il numero di serie allenanti che siamo in grado di gestire. Poi c'è il carico, l'intensità di carico, cioè il fatto che noi, grazie al fatto che siamo più performanti, riusciremo anche a lavorare utilizzando dei carichi maggiori. Inoltre c'è la densità dell'allenamento, ossia la capacità di fare tanto lavoro in poco tempo e quindi riuscire comunque a gestire anche dei tempi di recupero che sono più bassi. Ricordatevi sempre che bisogna allenarsi comunque a 360 gradi, non per avere sempre e soltanto come unico obiettivo l'obiettivo di tipo estetico, ma secondo me è anche bello ricercare comunque una performance che sia negli anni, nel tempo, via via sempre migliore. E quindi secondo me è importante anche dedicarsi al miglioramento di questi aspetti, perché sono quelle, secondo me, le cose che poi nel tempo ci danno grandi soddisfazioni, al di là poi del raggiungimento dell'obiettivo fisico, dell'obiettivo estetico. Detto questo, insomma, vi renderete subito conto che dovendo lavorare anche su tutti questi aspetti, su tutte queste variabili, fare degli allenamenti settimanali, un numero degli allenamenti settimanali maggiore sarà sicuramente molto più comodo per noi. e siccome durante questo periodo siamo anche supportati da un introito calorico maggiore, è una cosa che ci possiamo assolutamente permettere di fare. Quindi, durante questo periodo, possiamo anche pensare di aumentare il numero di allenamenti settimanali e di scegliere di allenarci anche 5-6 volte alla settimana. L'importante è che tutto sia fatto con criterio perché questo ci permette di ridurre l'intensità del singolo allenamento ma di distribuire in maniera uniforme gli esercizi, le serie, le ripetizioni durante la settimana. Quindi, anziché fare 3 allenamenti magari molto lunghi, ma farne 4, 5, 6 addirittura, in cui riusciamo comunque a distribuire in maniera uniforme il numero di serie per ogni singolo distretto muscolare e questo ci dà la possibilità di lavorare sempre con una certa forza, con una certa intensità di carico in ogni singolo allenamento. Quindi, cercare di sfruttare al massimo le serie che noi ci siamo prefissati di fare per quel singolo distretto muscolare o per quei distretti muscolari durante quel giorno di allenamento e non arrivare così stremati agli ultimi esercizi e quindi vanificare un pochino l'obiettivo di quella giornata. Comunque, ci tengo a ribadirlo anche oggi, il tutto deve essere sempre bilanciato rispetto al vostro stile di vita, quindi se non riuscite comunque ad allenarvi 6 volte a settimana, 5-6 volte a settimana, insomma, non fa assolutamente nulla. Però questa distribuzione dell'allenamento durante la settimana vi permette sicuramente di lavorare in maniera più precisa, di prendervi anche più tempo per riscaldarvi, per settarvi bene su ogni esercizio e dedicarvi così al lavoro in maniera assolutamente molto più precisa e migliore. Passiamo adesso ad analizzare la fase di definizione o di dimagrimento, che è una fase comunque completamente diversa rispetto a quella di costruzione muscolare o comunque di massa, perché partiamo sicuramente da uno stato di ipoalimentazione, cioè noi introduciamo con l'alimentazione un introito, comunque c'è un introito calorico alimentare sicuramente inferiore rispetto al nostro fabbisogno e questo ci permette appunto, ci dà la possibilità comunque di dimagrire e di perdere peso. Con un introito però calorico inferiore, quindi in una condizione di ipoalimentazione, c'è un'altra cosa che dobbiamo considerare, prima di tutto che abbiamo sicuramente meno energia, ma cosa fondamentale è che i processi di recupero muscolare sono rallentati e questo iniettabilmente influisce sul nostro allenamento e sulla capacità di recupero appunto dallo stesso. Pertanto durante questo periodo dobbiamo apportare alcune modifiche al nostro allenamento e dobbiamo intervenire prima di tutto apportando dei cambiamenti alle variabili dell'allenamento stesso, primo tra tutti il volume, quindi riduzione del volume dell'allenamento, riduzione appunto del numero di serie allenanti, cercando comunque di mantenere sempre più o meno la stessa intensità di carico, ok? Quindi cercando comunque di mantenere sempre più o meno i stessi carichi che abbiamo utilizzato durante il periodo comunque di massa di costruzione e cerchiamo però di ridurre comunque il numero di serie allenanti. Al di là della diminuzione del volume delle serie allenanti, quindi del numero di serie allenanti, quindi diminuzione del volume, dobbiamo praticamente intervenire diminuendo la frequenza di allenamento. Solitamente una frequenza comunque adatta ad un periodo di definizione è quella di circa 3-4 volte a settimana, anche perché di solito c'è sì una riduzione comunque del volume di allenamento, c'è sì una riduzione della frequenza ma aumenta l'intensità del singolo allenamento perché vengono di solito inserite in questa fase tecniche di intensità che possono essere ad esempio la respose, lo stripping oppure le jump set, insomma tutte tecniche di intensità che aumentano l'intensità del singolo allenamento e pertanto la frequenza di allenamento, siccome andiamo ad aumentare l'intensità del singolo allenamento come vi ho già detto, può essere tranquillamente sacrificata. Ritorniamo adesso a rispondere alla domanda iniziale. La domanda iniziale era è giusto allenarsi quindi tutti i giorni? Ed io vi ho risposto appunto con dipende. E questo trova risposta attraverso praticamente questa analisi che vi ho fatto di tutti i parametri che vanno ad influire inevitabilmente sulla frequenza di allenamento. E vi dico anche che se il tutto non è proporzionato alla persona, allora la mia risposta è no, assolutamente non bisogna allenarsi tutti i giorni, non bisogna allenarsi comunque tante volte durante la settimana, se il tutto appunto non è proporzionato alla persona è in base ai parametri che abbiamo analizzato insieme. Allenarsi tutti i giorni infatti è altamente sconsigliato, lì dove ci sono degli stimoli ed un volume di allenamento che non sono bilanciati e studiati in base alla persona che abbiamo di fronte. Il nostro fisico ha infatti bisogno di riposare tra un allenamento e l'altro. Questo anche perché i processi di ricostruzione hanno bisogno di avvenire in maniera corretta e nei tempi giusti, che sono assolutamente diversi da persona a persona. Dipende anche, appunto, come vi ho già detto nell'episodio precedente, dal livello di ansiedità della singola persona, quindi della persona che abbiamo di fronte e che comunque deve affrontare il workout. Pertanto ci colleghiamo ad un altro concetto che è il concetto di sovrallenamento. Il sovrallenamento si ha quando il nostro corpo non riesce più ad adattarsi agli stimoli, gli stressor dati dall'allenamento e quindi non riesce a mantenere l'omeostasi ed anziché migliorare, che cosa fa? Peggiora. Come facciamo però a capire quando questi stimoli, questi stressor sono eccessivi? Purtroppo questa è un'altra cosa che non possiamo sapere a priori, perché dipendono comunque sempre da persona a persona, ci sono soggetti, ci sono persone che sopportano comunque carichi di lavoro molto alti e soggetti che invece non sopportano carichi di lavoro relativamente bassi. Questo dipende dalla genetica, dipende anche, come vi dicevo prima, anche dall'anzianità di una persona a livello di allenamento, cioè anche da quanti anni una persona comunque si allena, perché sicuramente una persona allenata riesce a sopportare dei carichi di lavoro che sono più alti rispetto ad una persona che si allena da pochissimo tempo. Se avete come obiettivo quello di allenarvi più volte durante la settimana, quindi 6-7 volte alla settimana, considerate sempre che comunque è un obiettivo che può essere raggiunto nel tempo, di certo non dall'oggi al domani, quindi è sempre collegato comunque al concetto di anzianità. Per arrivare a quel volume di allenamento, a quella frequenza di allenamento, ci vuole del tempo, insomma. Quindi ci tengo a ribadire anche un altro concetto, cioè il fatto che comunque per un principiante, per spezzare l'omeostasi e quindi per ottenere comunque dei risultati, dei cambiamenti e una risposta agli stimoli che noi diamo attraverso l'allenamento, basteranno anche due o tre sedute di allenamento se ben strutturate, per un intermedio 4-5 e quindi per un avanzato, distribuendo quindi bene i volumi, anche 6 o 7. Vi invito però sempre, che siate voi principianti o avanzati, a percepire sempre gli stimoli che il vostro corpo vi dà e quindi se iniziate ad avere dei segnali di sovrallenamento, riguardare e rivedere un attimo la vostra programmazione o comunque fermarvi un attimino e riconsiderare il tutto. Se avvertite per esempio quali potrebbero essere questi segnali di allarme, demotivazione, poca voglia e voglia di allenarsi, anche stallo dei risultati, perché ovviamente appunto il sovrallenamento non porta a un miglioramento, ma anziché porta a uno stallo dei risultati, nonché per esempio nervosismo, difficoltà anche ad addormentarsi, frequenza cardiaca alta, appena ci svegliamo al mattino, sono tutti indicatori che possono essere importanti e che possono farci capire che siamo arrivati appunto ad una fase di sovrallenamento, quindi cerchiamo sempre di non sottovalutare tutti questi segnali. Analizziamo adesso insieme il secondo punto, ovvero quanto dovrebbe durare un singolo allenamento. Non esiste una risposta unica, in realtà bisognerebbe cercare di individuare la migliore via di mezzo tra una stimolazione efficace e la necessità di evitare un carico di stress eccessivo per il nostro corpo. Un lavoro troppo lungo comporterebbe un maggior rilascio di cortisolo, che è un ormone catabolico verso la massa magra, chiamato anche l'ormone dello stress, che è il nemico degli sportivi. Invece un'attività intensa, la cui durata si attessa intorno ai 50-70 minuti, offre la situazione migliore per beneficiare dell'intervento di un altro tipo di ormone, che in questo caso rappresenta il testosterone. Il rilascio del testosterone avviene infatti dopo circa 20 minuti dall'inizio della pratica sportiva e la sua emilita è tale da coprire al meglio un lavoro di durata di poco inferiore ad un'ora. Di conseguenza possiamo affermare che i tempi ottimali oscillano tra i 50 e i 70 minuti circa. Ovviamente anche in questo caso ci sono una serie di eccezioni che riguardano soprattutto chi è impegnato in attività di endurance e chi effettua allenamenti per obiettivi specifici. Ovviamente però quando parlo di 50-70 minuti di allenamento non intendo 50-70 minuti di tutti i fatti a altissima intensità o comunque tutti quanti che corrispondono alla fase centrale dell'allenamento, ma ovviamente comprendono anche la fase di riscaldamento iniziale, e il defaticamento, quindi insomma comprende realmente tutto il workout. Ci tengo però adesso a ribadire alcuni concetti che per me sono fondamentali. Vi ricordo infatti che oltre a pensare a quante volte allenarvi non dovete trascurare alcune piccole cose che fanno parte dello stile di vita a causa delle quali si rischia di vanificare tutti gli sforzi. Mangiare infatti tanto è male. Vi ricordo infatti l'importanza di seguire un'alimentazione salone e equilibrata ma anche adeguata al proprio stile di vita e che prevede un apporto di nutrienti che sia ben bilanciato rispetto al proprio fabbisogno e rispetto anche ai nostri obiettivi. Bere poco, dormire poco rispetto a quanto ognuno di noi ha bisogno perché inevitabilmente aumenta anche i livelli di stress e questo inevitabilmente influisce anche sui nostri risultati. Allenarsi troppo o tutti i giorni quando praticamente non è qualcosa che il nostro fisico in questo momento può permettersi di fare quindi rispetto alle proprie capacità e necessità. Cercare quindi di trovare il giusto equilibrio rispetto alle reali necessità e ascoltare quindi sempre il proprio corpo. Ci concentriamo molto spesso sul lavoro effettuato dimenticando che il miglioramento delle nostre prestazioni fisiche e della nostra composizione corporea avviene anche durante il riposo. Quindi diamo importanza al riposo perché il nostro corpo migliora grazie al principio della supercompensazione. Il recupero muscolare quindi è importante per ottenere degli obiettivi. E ricordatevelo questo perché molto spesso le persone tendono appunto a sottovalutare questa cosa e questo ve l'ho spiegato appunto anche all'inizio del primo podcast. Le persone sono convinte che non ottengono risultati e quindi cosa fanno tendono ad allenarsi di più quando magari non considerano tantissimi altri fattori che appunto vi ho elencato prima. Ma la cosa che ci tengo di più a dirvi che non mi stancherò mai di dirvi è di essere pazienti e di lasciare al vostro corpo i suoi tempi. Misurare in continuazione i pesi e i circonferenze può essere scoraggiante e rischiare di farvi perdere la determinazione. Il mio consiglio quindi è non solo quello di prendere peso in misure non più spesso di una volta al mese ma anche e soprattutto di vivere l'allenamento come stile di vita come qualcosa che comunque vi faccia bene vi faccia star bene a prescindere dai risultati ottenuti. Cioè iniziate a pensare all'allenamento come qualcosa che vi fa star bene a prescindere e che comunque vi possa far migliorare non soltanto a livello di aspetto fisico ma anche mentalmente ma anche interiormente perché siete comunque delle persone che avete un focus maggiore delle persone che comunque si riscoprono più forti anche giorno dopo giorno grazie al fatto che comunque migliorate determinate variabili legate all'allenamento determinate appunto capacità anche di effettuare la vostra stessa capacità di effettuare magari un esercizio in un determinato modo il fatto di avere una maggiore consapevolezza del vostro corpo di essere più resistenti più forti più determinate cercate di focalizzarvi anche su questi piccoli aspetti e non soltanto sull'aspetto estetico. Pazientate ragazze rimanite positive siate costanti e vedrete che risultati arriveranno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi spero che questo podcast sia stato di vostro interesse e soprattutto di aiuto ad alcune di voi e spero di aver risposto a alcune delle vostre domande se vi è piaciuto e se vi va potete anche pensare di condividerlo sui vostri social. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Un bacio a tutte ragazze.